Dopo il secondo posto definitivo in campionato, il Volley Arno riparte nell'avventura dei play-off per la conquista della B regionale. Gara di inizio di questo nuovo torneo in pratica dei quarti di finale ad Empoli domani sera dalle 21.15 per il match di andata. Il vantaggio del campo, peraltro, il rosso-blu lo avranno in ogni turno disputato nella manifestazione, essendo la miglior squadra assoluta qualificata nei numeri, ma non è che questo porti chissà quali privilegi. I confronti saranno infatti comunque due, ritorno con Empoli previsto per sabato 18 maggio al Pala Matteotti ed in caso di pari risultato come numero di parziali conquistati tra le rivali, si procederà con il Golden Set sulla distanza dei 15 punti che permetterà ad una delle due squadre di accedere al turno successivo. Nell'eventuale semifinale poi le ragazze allenate da Marco Lapi incontrerebbero la vincente tra la rinascita Pallavolo Firenze e la Cararese con le marmifere ad avere in questo caso il vantaggio della gara di ritorno in casa. Grazie. Grazie.